Caro tenuto, Vona, Celli, Falcone e Raikovic, pocherissimo d'acquisti per il Casarano, che si è ritrovato per il raduno e partirà alla volta di polla nelle prossime ore. La formazione rossa-azzurra sta per cominciare la stagione 2023-2024, quella che ha visto ricomporsi il tandem tra Giuseppe La Terza e Francesco Montervino. Il direttore sportivo sta mettendo a disposizione del mister una squadra competitiva, l'allenatore di Fasano, reduce dall'esperienza Monopoli in Serie C, che con Montervino ha vinto proprio il campionato di Serie D a Taranto, non vede l'ora di ripartire. Ripartiamo finalmente dopo la stagione dello scorso anno, entusiasmo ovviamente sempre tanto perché poi accettare una piazza come Casarano non ci pensi due volte perché è una piazza importante, è una piazza abblasonata, è una piazza che ti permette sempre di poter puntare a un campionato importante, quindi siamo contenti di questa scelta fatta e adesso dobbiamo iniziare a lavorare, che è la cosa più importante. L'umore della piazza non è altissimo, ma non lo era neanche a Taranto quando avete vinto il campionato, forse è un bene? Beh, un bene no, perché l'entusiasmo ti aiuta a lavorare, però ripeto, questa è una piazza che per ogni anno ha cercato di fare campionati importanti, non c'è riuscita e noi quest'anno ci tenteremo, tenteremo di farlo con il massimo impegno, con la massima ambizione, ripeto, e con la testa di essere qui a Casarano solo esclusivamente per poter rispettare la maglia e rispettare questa società che ovviamente ti permette, ripeto, di lavorare bene.